Bella a tutti Fortniteers, benvenuti sull'euntube, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace a questo video in cui andiamo a fare la missione distruggi oggetti con un lancia zucche dobbiamo distruggere 3 di oggetti, missione che fa parte del set Fortnite l'incubo il lancia zucche lo abbiamo comprato, vedete là quella piccola, eccolo qua, a parte che lo trovate un po' dappertutto si trova molto, moltissimo, come lo tesce molto, ma lì dal leader della squadra delle Urla lo potete comprare lì, ne ho comprati molti per avere più colpi a disposizione perché se ne compriamo uno solo ne abbiamo solo due colpi bene, iniziamo a distruggere, vediamo, già 3, distruggiamo ovviamente nella casa, là c'è la cucina, puntiamola bene vediamo adesso quanti ce ne dà, qui solo uno invece intanto c'è qualcuno nella casa, ecco qua siamo a 6 proviamo a farlo entrare dentro perfetto, 9, ok così ci divertiamo 11 eccolo là, vediamo, oh ho finito i colpi, ah ho finito i colpi, ora 5 colpi sono per tutti i 12, quindi ora, ah ok ce l'ho ancora qua, un colpo perfetto, ora mi attacca anche il lupo, ma lo domiamo ehi là, eccolo qua, missione completata, se il video vi è piaciuto e vi è stato d'aiuto, mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento qui nel video se vi va come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti ciao a tutti